Il comitato di quartiere Musa presenta la sesta sagra Dupi Pichinu, sabato 12 agosto con Trada Musa, Melito posto salvo. Degustazione Dupi Pichinu con pane caldo e tantissime sorprese. Spettacolo musicale con il gruppo Namaste. Non mancate, vi aspettiamo numerosi come sempre per una serata ricca di degustazione e divertimento. Riprese audio video Studio 95 Melito TV